Salve a tutti, sono Roberto Giocerchi, sono qua per proporvi un video, un video che non è assolutamente professionale, l'ho fatto io da appassionato di video e di fotografia, inerente a una parte della Val di Vara, dell'Alta Val di Vara, che sarebbe il comune di Sesta Godano e naturalmente delle sue frazioni. Sono 40 minuti all'incirca di video dove vedrete proprio tutte le bellezze di questo comune. Vi consiglio vivamente di vederlo. Buona visione a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.